All'interno del cartellone degli eventi che la Regione Campania ha messo insieme in una logica di turismo integrato dove anche i grandi eventi quest'anno arrivano sei mesi prima presentati alla Fiera di Rimini e poi successivamente a Londra e che individua due percorsi, un percorso della valorizzazione di questo immenso patrimonio culturale, archeologico, monumentale, questo museo a cielo aperto che è la Campania ma anche la valorizzazione di una serie di elementi come nel caso delle note degli angeli che mette in campo la settima edizione l'anno scorso a Pompei, al santuario di Pompei quest'anno nel Duomo di Nola che diventa una grande vetrina nel giorno di Natale dove si riesce ad ascoltare proprio dall'altare dove fu composta e interpretata per la prima volta sull'altare del Duomo di Nola l'inno Tu scendi dalle stelle. Una Regione Campania che mira in modo strategico sui vari turismi e dove anche il turismo religioso è un elemento fondamentale per poter arricchire l'offerta turistica e la specificità del nostro prodotto Campania.